Parto con il dire che ieri non è uscito questo video, è uscito con un giorno di ritardo semplicemente perché non mi andava di postare video il giorno stesso in cui è successa quella strage nel centro Italia è successa quella strage specialmente a Amatrice, nel paese che veramente è stato distrutto diciamo che tutto ciò che volevo caricare, che avrei voluto caricare, mi sembrava stupido, mi sembrava inutile quindi ho detto mi prendo un giorno, aspetto, penso e magari carico il giorno dopo perché non era così importante appunto postare un video immediatamente, ho preferito lasciare stare a parte questo passiamo a parlare della partita allora partita che devo dire ragazzi, ormai non mi stupisco nemmeno più, cioè nemmeno mi incazzo più ormai è normale, quando si va a giocare in Europa si fanno le figure di merda il che non è veramente possibile, ma non è la prima, tu dicevo che può capitare una volta che fai una figura di merda può capitare, però Bayern Monaco 7 a 1, Barcellona 6 a 1, Manchester United 7 a 1 la Fiorentina, abbiamo perso in casa 3 a 0, ieri 3 a 0 con il Porto che poi tu dici non hai fatto una figura di merda che magari hai preso la sveglia hai fatto una figura di merda pure come squadra da pollici, hai chiuso una partita in 9 all'andata in 10, non ci piace proprio giocare in 11, ma ti pare normale che se fanno in spelle due giocatori in 90 minuti, due giocatori, per me non è normale poi andavamo lì per non tenerci lo 0 a 0 tutti i giocatori anche hanno detto andiamo lì non per tenerci lo 0 a 0 ma per provare a vincere, per provare a chiuderla si è vista, abbiamo presi schiaffi a destra e a sinistra, è una cosa impensabile ma è veramente una cosa impensabile poi io sono stato tutta l'estate a dire che De Rossi mi sembrava un giocatore che potesse, grazie alla sua grinta, giocare dietro una difesa a 3 perché avrebbe dato carisma insieme a Manolasca, è quello che difende meglio, è Vermede anche quello con il piede che sa impostare avrebbe fatto un trio perfetto, l'hanno messo una volta difensore ha fatto il macello allora va basta, come tu pensi di poter entrare col piede a martello sulla caviglia di un giocatore in Champions League non stai a giocare in Serie A, non stai a giocare contro l'ultima della Serie A non stai a giocare un amichevole, stai a giocare i preliminari del ritorno di Champions League che valgono 30 milioni nella società, quindi interessi magari del mercato, giocatori che possono entrare valgono una stagione perché tu accedi al giro di Champions League valgono una vetrina, una visibilità, devi sapere a cosa vai incontro devi saperlo, non puoi entrare in quel modo, c'è una cosa inaudita Palmieri per me lo fa apposta, io veramente mi sono rotto il cazzo ho passato tutto l'anno scorso, nonostante la gente lo criticava a dire dai ragazzi vedrete che Palmieri farà bene, Palmieri crescerà un cazzo perché sembra che ogni volta che il mister decida di dare una chance a Palmieri dice vai 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 Emerson, provaci tu, cerca di fare in modo, nel modo più plateale possibile di fare incazzare il mister del pubblico romanista lui entra e dice cosa posso fare oggi con l'Udinese, potrei sbagliare tutti i cross con il porto, entra al posto di un giocatore per sostituire l'espulso cosa posso fare? Posso farmi buttare fuori per me è un demente, cioè ma come cazzo ti salta in mente? come ti salta in mente di farti buttare fuori in quel modo? siamo stati tutta l'estate a chiederci chi avrebbe giocato titolare fra Cesni e Alisson, chi giocherà fra Cesni e Alisson tutti dicono Cesni perché è quello che dà più sicurezza mentre Alisson non ne blocca una alla fascia del cazzo della sicurezza cioè mi spieghi come fai a uscire in quel modo è uscito sparato dietro le spalle dell'attaccante tipo pensasse, non lo so, o trincio l'attaccante o me scarta non l'ha trinciato, l'ha scartato e l'abbiamo preso nel culo come fai a uscire? già che siamo in inferiorità numerica perché siamo in 11 contro 9 perché a noi giocare 11 contro 11 ci fa cagare altamente siamo in inferiorità numerica Cesni decide sul 1-0 per il porto di uscire a cannone su un giocatore così a cazzo poi vabbè il 3-0 sul suo palo è veramente la chiusura finale di una Roma che ha deluso totalmente che poi io non vado a bocciare come serve perché io non boccio mai boccio alla fine di una stagione, due stagioni anzi di due stagioni boccio nella prima diciamo ammonisco fra virgolette rimando, alla seconda boccio e Cesni l'anno scorso mi è piaciuto, mi piace sempre però tu dimostri di non avere una mentalità europea formata a fare una cosa del genere a uscire a cannone quando sai che i gol in trasferta valgono doppi ieri dopo il 2-0 era chiusa ragazzi era chiusa perché tu dovevi andare a vincere 3-2 in 9 contro 11 a 20 minuti dalla fine tu sapevi a cosa andavi incontro sapevi che qualora avessi preso gol la partita sarebbe stata chiusa con 20 minuti d'anticipo e allora perché lo fai? non era meglio rimanere fra i pali visto che è quello il tuo mesterno deve rimanere fra i pali e non fare un cazzo ma poi generalmente tutti male, ieri Manolas pareva un birillo Juan Jesus, santo Dio ma come fai a perderti l'uomo sull'1-0 lì, lì veramente da picchiarlo perché eravamo 11 contro 11 devi tenerti un uomo ma non è possibile che un demente un demente te lo perdi così e la butta dentro di testa come fai? cioè è il tuo uomo è il tuo devi coprire lui te a me mi dicono io devo coprire lui copro lui non puoi perderti il tuo uomo è impossibile perderselo poi se quello fa una rovesciata al volo e la metta all'incrocio bene ma che tu te lo perdi che dai 8 metri di larghezza e lui riesce a colpire tranquillamente me tra le spalle del portiere e lì fai una stronzata a te fino a prova contraria un'altra cosa che mi fa incazzare è che i romanisti sono limitati mentalmente cioè io leggo i post del tipo eh ragazzi non abbiamo la mentalità europea non abbiamo la mentalità europea ma se non ce l'avete voi per primi la mentalità europea cosa vi lamentate? allora vi ho letto 850.000 post che dicono bisogna tenerci i paredes perché Borca Valero ha 31 anni perché Borca Valero farà 32 anni perché Borca Valero prende 3 milioni di euro quello che vi state dimenticando è che Borca Valero è Borca Valero pare di essere un giovane che crescerà diventerà Gesù diventerà il migliore quello che vi pare ma è paredes ragazzi poi magari a fine stagione sarà Gesù ma paredes è paredes Borca Valero è Borca Valero se voi volete vincere prendete il migliore se voi volete fare il gioco di eh di Sabatini che tanto vi lamentate prendete e paredes che tra qualche anno crescerà lo venderemo a 50 milioni è forte paredes e la dirigenza cattivi che l'hanno venduto però ci faremo i soldi e rimarremo sempre da capa 12 per vincere ci vogliono i giocatori forti ora ora la Juventus ha speso 15 milioni per Tevez che era un 32enne e quel 32enne gli ha fatto una fracca di gol gli ha fatto una fracca e grazie a Tevez la Juventus ha vinto lo scudetto allora cosa è successo? perché è successo questo? perché hanno preso uno forte adesso la Juventus prima di prendere Tevez c'ha avuto degli anni bui prima di prendere Tevez aveva vinto già dei scudetti però ancora prima ha avuto degli anni bui perché prendeva Bentner che crescerà Bentner ragazzi Bentner è uguale è lo stesso discorso io so a me mi piace il Parides sono contento ma Parides è Parides c'ha una mentalità c'ha ok può crescere ma è giovane ha poca esperienza Borca Valero è Borca Valero se tu vai a comprare un giocatore già fatto già attuato 31 anni ti fa due stagioni della Madonna due stagioni della Madonna ed è diverso ho sentito qualcuno ha dato la colpa a Geco e a Spalletti io non sono d'accordo cioè Geco ha fatto una partita del merda siamo chiari però raga dare una colpa a Geco per l'eliminazione abbiamo preso tre pappine tre pappine per l'eliminazione Geco è un attaccante ok ha fatto cacare ma come hanno fatto cacare tutti gli unici che si sono salvati sono stati Nainggolan Bruno Peres e Salah fine Nainggolan più di tutti che non ha mai mollato e per questo ragazzi veramente merita non so io la abbraccerei se ce la visite avanti la abbraccerei Nainggolan perché è un giocatore che è da ammirare poi come fanno a lamentarsi di Spalletti perché dico noi abbiamo perso chi l'ha mandato in campo ma secondo voi Spalletti ha entrato gli ha detto dai ragazzi fatevi buttare fuori in due cioè ragazzi 11 contro me sembrava stavamo a giocare a calcetto ma scherziamo a calcio stavamo a giocare a calcetto a giocare nei spazi a correre ma come si fa ma come si fa comunque ora vedremo i sorteggi di Europa League vediamo col culo che c'è il backhammer Manchester sicuro ma ce lo meriteremo almeno cominciamo a ragionare a ragionare che dobbiamo sfruttare le diciamo le occasioni perché il calcio ci insegna anche questo vi faccio l'esempio più plateale poi chiudo la Juventus l'anno scorso ha battuto due volte il Manchester City due volte se non erro poi cosa ha fatto è andato a perdere a Siviglia col Siviglia già eliminato il City l'ha superata cosa ha beccato il City agli ottavi non me lo ricordo perché era una squadra de merda e infatti è passato cosa ha beccato la Juve agli ottavi il Bayern Monaco come si chiama questa Roma sveglia coglioni come ci chiameremo noi ai gironi spero sveglia coglioni perché noi ovviamente spero che becchiamo tre squadre de merda però ci meriteremmo di prendere altre bastonate in capoccia cioè noi dobbiamo passare i gironi perché ovviamente spero che li passiamo col fiato al collo che abbiamo fatto un culo così per passarli perché è questo che va così va nel calcio sfrutti l'occasione subito o ti fai un culo così dopo e secondo me ci dobbiamo fare un culo così perché ce lo meritiamo detto questo ragazzi questo video finisce qui spero che il video vi sia piaciuto se vi è piaciuto ovviamente lasciate un mi piace il video vi ha fatto cagare un dislike io vi ringrazio per la visione buon ciao e ci vediamo ad un prossimo video e ci vediamo